Numero 5. Bialetti Mocha Timer è la gioia dei veri amanti del caffè. Grazie alla base estraibile e alla potenza di 365 Watt, prepara fino a tre tazze di caffè e le mantiene calde per 30 minuti. Una suoneria polifonica avvisa dell'avvenuta preparazione del caffè. Caratterizzata da materiali in alluminio e uno spegnimento automatico, è semplice da usare. Perfetta per chi desidera un caffè sempre pronto e caldo. In descrizione trovi il link di questo prodotto. Numero 4. La caffettiera elettrica dell'Ariete, Mocha Aroma, è un vero gioiellino per chi cerca praticità e convenienza. Estremamente compatta e facile da usare, permette di preparare da 2 a 4 tazzine di caffè in un attimo, grazie ai suoi 400 Watt di potenza. Anche se non è realizzata in alluminio, i materiali in plastica garantiscono una buona durata. Unico vero limite è la mancanza di funzioni extra, ma il prezzo basso compensa ampiamente. Trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione. Numero 3. La DeLonghi Alicia Plus è una caffettiera elettrica compatta e versatile. All'interno di dimensioni ridotte, riesce a fornire un caffè rapido e aromatico grazie alla potenza di 450 Watt e alle funzioni avanzate, inclusa la modalità per l'orzo. La base estraibile e la possibilità di scegliere tra una o due tazze, la rendono comoda e pratica. Tuttavia, la capienza limitata potrebbe non soddisfare le esigenze di chi deve preparare quantità maggiori di caffè. Trovi il link di questo articolo in descrizione. Numero 2. La caffettiera elettrica G4 Ferrari Bonjour è l'ideale per gli amanti del caffè. Con una capienza regolabile da 1 a 3 tazze e una potenza di 400 Watt, promette un caffè sempre caldo grazie al mantenimento in caldo e allo spegnimento automatico. La base estraibile rende facile la pulizia, e il timer integrato assicura che il caffè sia pronto quando vuoi. Sebbene manchi la funzione aroma, la qualità dei materiali in alluminio garantisce un prodotto duraturo e affidabile. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. Numero 1. La caffettiera elettrica De Longhi Alicia Plus è un vero gioiello per gli amanti del caffè. Con una capacità che varia da 3 a 6 tazze, la sua base estraibile e una potenza di 450 Watt, offre un'ampia varietà di funzioni. Grazie al timer programmabile fino a 24 ore e alla funzione di mantenimento in caldo, è l'alleato perfetto per iniziare la giornata. Aromi intensi e possibilità di preparare anche l'orzo la rendono indispensabile in cucina. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!